E' arrivata la lettera da Bruxelles, eh beh tanto, io aspettavo anche quella di Babbo Natale, ne riparleremo, ripeto, se qualcuno mi convince che la legge fornero è una legge giusta che non va toccata, non riuscirà mai a convincermi del fatto che la legge fornero sia una legge giusta che non va toccata, perché penso che il lavoro per i giovani si crei anche se lasci che i 65 anni tornino a casa a godersi i nipoti dopo una vita di lavoro e di fatica e quindi risponderemo educatamente come sempre abbiamo fatto, ma vado avanti, perché io penso che l'Italia abbia assoluto bisogno, e quando parlavo delle normative europee parlavo ben di quello, quando parlavo delle nostre spiagge nei nostri mercati parlavo ben di quello e c'è il Ministro Centinaio che ci sta lavorando giorno e notte.